buongiorno al dottor claudio saracino da benessere ipnosi soluzione oggi ragazzi parleremo di sigarette di fumo e se l'ipnosi dcs vera e professionale soprattutto l'auto ipnosi dcs vera e professionale l'ipnosi dcs che tu ti fai da solo nella tua stanzetta senza girare cappelle funziona oppure no per smettere di fumare tu considera che il sottoscritto più di 12 anni fa fumava tre pacchetti di sigarette 3 di marlboro pesanti ho spesso con la forza di volontà anni prima e poi ripreso raddoppiando arrivando il proverbiale i tre pacchetti da un pacchetto pacchetto e mezzo smesso con un libro che ho scoperto anni dopo usasse una scrittura ipnotica dal titolo è facile smettere di fumare se sai come farlo di allen car ti consiglio di comprarlo leggero regge io alla cento quarantesima pagina leggevo due pagine al giorno sul 180 ho smesso di fumare se avessi conosciuto l'ipnosi dcs vera e professionale prima di questo libro avrei smesso molto più in fretta perché basta mettere un audio mp3 dcs dal titolo no fumo che non ti fa mettere gli auricolari che non ti fa perdere tempo che non ruba tempo a te ai tuoi cari molto prezioso che che ti porta ad eliminare tutte quelle immagini che qualcuno quando eri bambino ti ha trasmesso che può essere un genitore un film un personaggio televisivo amici ok perché ricordati che è più forte di te fumare perché nel tuo subcosciente ci sono delle immagini un'immagine o dei programmi inconsci come qualcuno li chiama che non ti fanno smettere di fumare sono più forti della tua forza di volontà ecco perché quando smetti con la forza di volontà tu ti obblighi ti costringi soffri a un conflitto interiore ma quando smetti con l'ipnosi tu convinci il tuo subcosciente il tuo pilota automatico a non volere più fumare quindi per te spontaneo come se fossi nato oggi anche se avevi fumato vent'anni come il sottoscritto e ti senti libero da questa schiavitù non devi credere a me devi soltanto fare scrivimi se risponderò gratis compatibilmente mi impegni nei tempi e documentati perché l'ipnosi nel mondo personaggi famosi gente comune direttamente indirettamente ha smesso di fumare grazie all'ausilio dell'ipnosi di csv professionale vai sul mio sito internet www.iprolegiassociati.com vista la mia fanpage su facebook iprosi iprosi il dottor claudio saracino e iscriviti a questo canale youtube benessere iprosi soluzione di cs il dottor calcio saracino e faccia il condividi con amici parenti perché può essere quel quid quella molla scusa ma sto camminando da un po di chilometri che può cambiargli la vita e visita anche i miei profili instagram e twitter benessere iprosi soluzione di cesto del dottor claudio saracino per cui rispondo a quella signora che dicevamo funziona per mia cognata bene signora funziona funziona seguendo le istruzioni alla lettera istruzione a prova di nonno a prova di figro a prova di viota che un bacio un abbraccio dal dottor claudio saracino e al prossimo video